ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come nell'ultima puntata del grande fratello massimiliano varrese ha vissuto grandi emozioni visto che ha potuto riabbracciare sua figlia e la mamma della piccola mia un momento significativo per l'attore che lo ha vissuto in pieno e di cui ha parlato anche dopo la diretta lasciando trasparire il coinvolgimento ci lunga e lo lega valentina melis in vena di confidenze dettate dal carico emotivo varrese ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sulla sua ex relazione il gfino toccato dall'incontro con la piccola mia e con la sua ex compagna ha condiviso le sue emozioni con gli altri concorrenti svelando qualcosa di inedito sul suo rapporto con la madre di sua figlia l'attore dopo un incontro intenso che ha coinvolto profondamente i telespettatori non solo dopo la puntata del grande fratello ma anche nei giorni successivi alla diretta ha ripensato a quei momenti e si è lasciato andare alle confidenze svelando quali sono i suoi sentimenti verso valentina grande fratello massimiliano varrese la confessione su valentina melis massimiliano varrese ha così confessato senza remore a fiordaliso sono sempre innamorato di valentina dal fondo del mio cuore sogno in un miracolo mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose io ho rivalutato un sacco di cose il mio sogno è riunire la mia famiglia il nostro è stato un amore enorme la decisione la prendemmo di comune accordo è stato un insieme di cose la cantante dopo la confessione ha ammesso di aver percepito anche da parte della sua ex compagna dei sentimenti forti affermando nei suoi occhi vedo amore lei ci tiene ancora molto massimiliano varrese le attore sentendosi libero ha anche affrontato un tema delicato ovvero la fine della loro relazione svelando non volevamo rovinare quello che stavamo rovinando io e lei non ci siamo mai più confrontati per me è un tasto molto doloroso io credo di essere ancora innamoratissimo per poi aggiungere è stata una storia d'amore molto bella abbiamo avuto mia una bimba desiderata fortemente poi ci siamo allontanati la pandemia è stata fatale logorati dalla situazione da cose lavorative e private abbiamo iniziato a non andare più d'accordo ad avere idee diverse sulla vita e sul futuro così abbiamo deciso di allontanarci e salvaguardare l'armonia ha confessato con un velo di malinconia l'attore l'attore e valentina si sono conosciuti a teatro nel 2006 quando entrambi erano impegnati con le prove per il musical tre metri sopra il cielo ma in quel periodo erano fidanzati con altri all'epoca ma in seguito si sono incontrati a distanza di otto anni ed entrambi erano liberi sentimentalmente e così hanno intrapreso una relazione sono andati a convivere dopo due anni e nel 2017 è nata mia ma dopo qualche anno si sono lasciati come ha spiegato varrese ciao